Il gasole è quello, se il gasole non partisce, oddio non partisce, se scalda scoppia. Il gasole è un'liendo, e si è passato il fuoco, se spara un'altra, scoppia un'altra, scoppia un'altra, scoppia un'altra, scoppia un'altra, scoppia un'altra, però non accumbia si può, se Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti